Amici bentornati sul canale 9.000 giri elaborazioni autosportive, vi interessa sapere le ultime novità sulle normative Euro 7 o sullo stop della produzione di auto endotermiche nel 2035? Seguite questo video, magari scoprirete qualcosa di interessante, sigla! Come premesso, sapete che in questi ultimi periodi sta maturando un'opinione un pochino diversa dal solito riguardo a delle decisioni che erano state fissate o prese anni fa, nello specifico due decisioni che comunque sono molto importanti da un punto di vista sia industriale che di sviluppo economico di tutta l'area dell'Europa, che riguardano, uno è l'omologazione delle auto Euro 7, una decisione presa a novembre del 2022 e la seconda decisione presa sempre dal Parlamento europeo che dava come ipotesi lo stop per tutte le case produttive produttrici di produrre motori endotermici nel 2035. Allora, mentre l'omologazione delle Euro 7 era stato fissato come paletto nel 2025, quindi praticamente dopodomani in sostanza, la seconda spada di Damo che era il 2035 non era dopodomani, però diciamo che era sempre molto vicino ad oggi. Queste due ipotesi sono due ipotesi estremamente penalizzanti per tutto il comparto di produzione e sviluppo tecnico delle auto e di tutto quello che ne consegue o che ne è facente parte. Queste normative Euro 7 sono estremamente più stringenti rispetto alle già normative stringenti dell'Euro 6 o Euro 6b, quindi avrebbero creato enormi difficoltà a omologare auto nuove, quindi avrebbero messo in grossissima difficoltà la parte di sviluppo tecnologico di tutte le case che devono mettersi in regola con queste normative che sono veramente stringenti in maniera quasi impossibile, quindi questo era già il primo problema, quindi difficoltà a omologare questo genere di vetture, difficoltà ad avere disponibilità di queste vetture perché ne verrebbero prodotte veramente poche, costi con il rischio di aumentare in maniera esponenziale al costo di ogni vettura, quindi facendo un riferimento proprio anche a livello di tipologia di vettura, un aumento di un costo medio dai 2 ai 3 mila Euro che può essere accettabile su una macchina di grossa cilindrata, una macchina che costa più di 100 mila Euro che ne costi 100, 103 cambia assolutamente poco, ma una macchina di segmento basso l'avrebbe completamente penalizzata, cioè avrebbe portato tutte le macchine di piccola piccolissima cilindrata praticamente fuori mercato, questo è il senso, quindi anche in questo caso due normative che andavano a chiudere la tagliola per portare la gente in maniera direi sostanzialmente obbligata a comprare quelle che io definisco le lavatrici o le carabattole su ruote, le lavatrici sulle ruote, quindi possono essere la mia opinione, la sapete, secondo me le macchine elettriche non hanno senso di esistere se non in determinate condizioni, in determinati ambiti dove vanno benissimo, ma l'imposizione a livello totalitario dove tutto il parco circolante deve girare in elettrico per ben ovvi motivi, ben ovvi motivi a livello di produzione, a livello di recupero dell'energia, di chi produce l'energia, di quali paesi sono più o meno interessati a questo genere di mercato, crea l'idea assolutamente irrealizzabile, non ci vuole un genio per capirlo. Detto questo, fatto questa premessa, una cosa interessante che ho scoperto recentemente, si vede che a Bruxelles ultimamente stanno cominciando ad accendersi qualche cervello, per un determinato numero di anni hanno vissuto nel loro mondo pandemico pensando appunto a come risolvere la pandemia, come allocare le risorse della pandemia e hanno pensato solo esclusivamente a quello, non hanno pensato a niente altro e adesso hanno buttato lì delle normative che hanno creato o stanno creando dei grossissimi problemi, adesso stanno correndo i ripari, perché i cinesi si sono svegliati molto prima di noi, sono molto più aggressivi e stanno mettendo in crisi tutta la parte industriale europea e non solo europea, ma anche quella americana. Quindi diciamo che uno dei pochi segnali positivi è che chi comanda in Europa ha cominciato ad accendere il cervello a far mente locale pensando di apporre dei correttivi prima che sia troppo tardi, questo da un certo punto di vista comunque è un bene. La sostanza del discorso che per il momento, questo è dovuto soprattutto all'intervento di sette paesi rispetto a tutti quelli che formano la comunità europea, in primis Germania, Francia, Spagna, Italia, Bulgaria e altri che hanno i più importanti chiaramente, quelli che detengono la parte più importante da un punto di vista industriale, si sono, come dire, hanno fatto fronte comune perché queste normative qua benissero riviste corrette e per il momento ci sono riusciti, nel senso che sia per quanto riguarda questa normativa Euro 7, la cui scadenza doveva essere nel 2025, sia per quanto riguarda lo stop di produzione delle auto termiche nel 2035, per il momento è stata sospesa, doveva essere riviste corrette e corrette, spero che questa normativa qua, se non viene più presa in mano, tanto di guadagnato e ci sono molto meno problemi per tutti, se dovesse essere ripresa in mano venga rivista e corretta col cervello, non con altre parti del corpo, così come è stata stilata allora e così come ha rischiato, come sta rischiando di mettere in crisi tutta la parte economica e la vita nostra e dei nostri figli, perché fare delle leggi fatte in maniera veramente assurda come quelle che hanno cercato di fare fino a questo momento sono veramente preoccupanti. Il fatto che questi paesi abbiano fatto sentire la loro voce e nel Parlamento europeo abbia recepito la voce di questi paesi ha per il momento sospeso o congelato queste due deadline. Io spero, mi auguro che ci siano delle ulteriori notizie positive per le quali chiaramente eviterò al corrente, mi sembrava utile dare questo tipo di informazione che fa sempre parte del discorso automotive e quant'altro, non parla di tuning, non parla di elaborazione, però parla sempre di quello che è il futuro dell'auto che poi è quello che interessa a me e a tutti coloro che seguono il nostro canale perché sono tutti degli appassionati. Io direi che per il momento la situazione è fluida, vi tirerò comunque al corrente se dovesse esserci delle notizie come spero ci siano, per il momento vi chiedo di cliccare sulla campanella, iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati su tutto quello che noi facciamo e chiamarmi quando volete, noi sono sempre in sede 0273 83 175. Un saluto, alla prossima! Ciao!